E ieri il Parco Nazionale dell'Altamurgia, il Comune di Altamura e la Diocesi di Altamura hanno celebrato il ricordo di Don Francesco Cassol, vittima di omicidio proprio nel territorio del Parco Nazionale dell'Altamurgia, nella notte tra il 21 e il 22 agosto del 2010. Durante la cerimonia che si è svolta presso il crocifisso, posto sul luogo del delitto, si è voluto ricordare l'importanza e il dovere dell'impegno quotidiano da parte di ogni singolo cittadino e delle istituzioni nella difesa della bellezza contro ogni forma di illegalità, proprio sull'esempio di Don Cassol per non rendere vano il suo sacrificio. Le interviste di Francesco Rossi. Questo luogo che è stato un teatro di tragedia diventa simbolicamente importante come difesa del territorio delle aggressioni. Assolutamente sì e lo è in nome di Don Francesco. Don Francesco che ormai fa parte della nostra comunità, della comunità altamurana e questo simbolo va ricordato, lo ricorderemo sempre perché è fondamentale per noi che questo meraviglioso territorio possa essere finalmente conservato. Ci sono ancora aggressioni a questo territorio, dobbiamo fare assolutamente in modo che questo non possa più avvenire perché è il nostro futuro puntare su questo e la comunità del parco insieme al Presidente, al Direttore, insieme ai comuni che fanno parte di questo meraviglioso territorio e che lavorano, lavorano tutti i giorni per preservarlo, abbiano qualcosa di importante da ricordare. E lo dico come credente, lo dico come cristiano perché no, io sono convinto che da lassù Don Francesco tuteli ancora in modo più importante questo territorio. E paradossalmente proprio in queste ore c'è qualcuno, in particolare da Andria, che continua a chiedere la riapertura della caccia all'interno del parco per debellare la questione dei cinghiali. Allora la caccia nei parchi è vietata per legge, io trovo grottesca questa idea perché come spesso accade si bada a quello che accade nel Parco Nazionale dell'Alta Morgia, soprattutto chi probabilmente ha sempre contrastato sin dalla nascita l'idea del Parco Nazionale dell'Alta Morgia e non si pensa a tutto quello che avviene fuori dal Parco Nazionale dell'Alta Morgia. Se ognuno facesse il suo dovere a partire dall'esterno del perimetro del parco, noi non avremmo molti dei problemi che dall'interno del parco, il personale del parco, il Presidente e tutti gli altri sono costretti a contrastare praticamente da soli. Lei ha parlato prima della necessità di tutelare questo luogo da tante piccole illegalità, senza arrivare alle tragedie come in questo caso, ma che sono comunque ancora presenti. Sì, oggi è un momento di riflessione. Noi non possiamo dimenticare che cosa è avvenuto e i motivi per cui è avvenuta questa tragedia. Purtroppo ci sono ancora sacche di illegalità all'interno del perimetro del parco. Noi per quanto ci impegniamo a contrastare abbiamo bisogno della comunità, abbiamo bisogno dei cittadini, abbiamo bisogno delle amministrazioni, bisogna battersi tutti insieme perché l'obiettivo non può che essere debellare questi fenomeni. Noi facciamo la nostra parte. Papa Francesco ha ricordato quanto è importante la tutela del creato. Sì, come Chiesa, anche come Chiesa diocesana, siamo accanto alle istituzioni per sostenere anche la difesa del territorio, la valorizzazione di questo luogo, come si diceva poc'anzi, così importante e così bello. Ma allo stesso tempo io credo che il nostro ruolo, come anche ci ricorda Papa Francesco in questa sua lettera intitolata come il Santo di Assisi laudato sì, è un ruolo educativo, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, le quali passano anche dalle nostre comunità. Questo ruolo educativo che guarda ai ragazzi, guarda ai giovani, ma guarda anche alle famiglie, agli adulti, per valorizzare il territorio, per tenerci, per essere esempio di legalità. E ci poniamo anche accanto a loro, non solo come istituzione ecclesiale, come sacerdoti, ma anche ponendo dei testimoni esempi di legalità, esempi di coloro che si sono spesi per amore del territorio.